Allora voglio commentare un articolo che è apparso all'interno del sito lavoce.info intitolato Il declinio del sindacato e dei salari settimanali non si vede di David Branchflower e Alex Bryson dell'8 agosto 2024. È un articolo in cui l'autore si chiede se la riduzione del numero degli iscritti al sindacato abbia comportato in qualche misura una riduzione del cosiddetto premio salariale sindacale. Il premio salariale sindacale è praticamente quel premio che viene dato agli iscritti al sindacato. Nella realtà se si guarda i dati degli Stati Uniti sembra che la risposta sia no e i lavoratori sindacalizzati lavorano di più rispetto ai loro colleghi e questa è una delle motivazioni per cui guadagnano anche di più. Infatti gli autori diranno che i lavoratori sindacalizzati riescono a combattere meglio la sottococcupazione. La percentuale dei lavoratori iscritti al sindacato è in calo da decenni in tutti i paesi sviluppati. Negli Stati Uniti iscritti al sindacato sono il 33% nel settore pubblico ed il 6% nel settore privato una riduzione importante, infatti prima erano il 24%, 50 anni fa. Però nonostante c'è stata una riduzione importante degli iscritti al sindacato c'è comunque questo premio che viene dato ai sindacalisti, a quelli che sono iscritti al sindacato rispetto a quelli che non lo sono. Ovviamente la riduzione del numero degli iscritti al sindacato negli Stati Uniti viene intesa come una vittoria dei datori di lavoro sui lavoratori per quanto riguarda il potere contrattuale e quindi una diminuzione della quota di reddito aspettante ai lavoratori però sostanzialmente questo premio salariale è rimasto intatto. Come è stato analizzato questo articolo, questi dati sono stati presi dal Current Population Survey e si vede chiaramente, c'è un grafico qui che viene riportato del salario orario e del salario settimanale con l'indicazione del primo salario sindacale dal 1973 fino al 2023 si nota che ci sono stati dei picchi dove essere iscritti al sindacato faceva guadagnare quasi il 30% in più negli anni 70 sulla fine degli anni 70 poi c'è stato un picco negativo nel 79 e poi a partire dal 2014 in poi c'è stata una riduzione sempre più importante nel 2015 che si è poi ulteriormente manifestata anche dopo il Covid-19 quindi in realtà se facciamo una differenza netta dal 1973 al 2023 possiamo notare che questo valore è diminuito notevolmente passando a circa il 21% fino ad arrivare al 16% però comunque continua ad esistere un premio salariale sindacale c'è continua ad esistere negli Stati Uniti una quota di reddito in più che gli iscritti e i sindacati hanno rispetto a coloro i quali invece non sono iscritti è vero anche, dice l'autore, che queste persone lavorano di più lavorano nel 5% in più di ore a settimana che significa lavorare 1-2 ore in più a settimana questo fatto aiuterebbe i lavoratori anche a ridurre la sottoccupazione e inoltre c'è anche un problema proprio di sindacalizzazione possiamo sottolineare il fatto che per quanto riguarda gli autori concludono dicendo che sostanzialmente i sindacati hanno perso molto potere però rimane appunto questo elemento in più che è legato non soltanto alle politiche del benessere dei lavoratori è legato anche al fatto di avere un salario orario adeguato all'offerta, diciamo, di lavoro che cosa possiamo dire di questo articolo? beh, sostanzialmente, diciamo innanzitutto notiamo la riduzione del numero dei sindacati, dell'iscritto al sindacato degli Stati Uniti però questo non è una cosa che ci deve colpire particolarmente perché sappiamo bene che gli Stati Uniti hanno fatto delle rotte negli anni 70, 80 già a partire da dopo la seconda guerra mondiale che sono state tutte quante rivolte essenzialmente al tentativo diciamo, di ridurre l'importanza di alcuni fenomeni come appunto i partiti di sinistra i socialisti, i sindacati quindi da un certo punto di vista è assolutamente normale che il numero degli iscritti al sindacato negli Stati Uniti sia a basso perché proprio gli statunitensi hanno fatto delle lotte proprio negli anni 70 soprattutto negli anni 80 per andare contro diciamo questo mondo ricordiamo che gli Stati Uniti sono il paese del meccartismo dove se uno veniva considerato comunista o vicino ai rossi praticamente gli facevano un processo pubblico quindi è chiaro che il marxismo il socialismo il comunismo tutte queste idee negli Stati Uniti non sono non trovano diciamo adeguata rappresentazione e le relative diciamo derivazioni politiche ideologiche di queste idee anche queste non trovano non trovano spazio e quindi sostanzialmente diciamo non ci sono i partiti di sinistra non ci sono i comunisti il sindacato è molto debole non c'è la sanità pubblica le scuole pubbliche ci sono però diciamo non sono come quelle private cioè gli americani hanno scelto in totale contraposizione con il modello comunista marxista che veniva scelto appunto gli Stati Uniti di orientarsi ad un modello strettamente capitalistico dove non c'è un conflitto tra lavoro e capitale perché la popolazione ha già deciso che vince il capitale e non c'è nessun problema nel sentirsi diciamo exploitati potremmo dire sfruttati espropriati dal capitalismo perché la società nella quale si è scelto di vivere è una società capitalistica quindi le persone che vivono negli Stati Uniti sanno benissimo di vivere una società capitalistica dove i diritti sociali sono minimi e dove non ci sono orientamenti socialisti socialdemocratici o comunisti o di questo genere quindi diciamo è così non non dobbiamo stupirci di questo e probabilmente se gli americani potessero scegliere diventerebbero tutti imprenditori e nessuno farebbe lavoratore dipendente che poi diciamo è come dire una sorta di utopia che si vorrebbe realizzare in ambito capitalistico quindi diciamo anche l'investimento massiccio che gli americani fanno sulle tecnologie che sono quasi tutte rivolte a sostituire la forza lavoro perché lo sappiamo bene l'intelligenza artificiale non è qualcosa che diciamo diciamo produrrà nuovi posti di lavoro nel breve probabilmente nel medio e lungo termine si creeranno molti posti di lavoro con l'intelligenza artificiale però è molto probabile che nel breve l'intelligenza artificiale produca della sottooccupazione o della disoccupazione perché le tecnologie sono fatte così si investe nella tecnologia per risparmiare risparmiare soprattutto sulla forza lavoro quindi diciamo sono questi i motivi che possono indicare una riduzione del numero dei sindacati come ripeto non è una cosa di cui bisogna particolarmente diciamo meravigliarsi non c'è niente di strano in questo anche perché se poi facciamo un paragone con l'Italia dove invece i sindacati sono ancora molto rilevanti però se noi andiamo a guardare la CGL per esempio che cosa è oggi la CGL la CGL ha un 80% di iscritti che sono pensionati quindi non è neanche un sindacato nel senso originale del termine perché se fosse un sindacato vero dovrebbe avere un 80% di iscritti lavoratori e non pensionati però anche in Italia ormai i lavoratori si iscrivono sempre di meno ai sindacati anche perché i sindacati non riescono proprio ad intendere quelle che sono le 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 formazioni nuove che si vengono a creare nel mondo del lavoro e che magari richiederebbero delle nuove tutele per esempio i sindacati italiani non fanno nulla dal punto di vista degli stakeholders non fanno nulla per difendere la diversità all'interno dell'azienda non fanno nulla per quanto riguarda il welfare aziendale e qualora dovessero scendere in piazza diciamo per protestare contro Tizzecaio sarebbe facile bloccarli perché basterebbe dire ai sindacati che magari si spostano parte delle risorse dalle pensioni al lavoro dipendente che il sindacato già andrebbe in tilt perché avendo appunto come maggioranza dei suoi iscritti essendo appunto la maggioranza dei suoi iscritti costituiti da pensionati qualora si andasse a toccare questo elemento certamente ci sarebbero delle problematiche e quindi il sindacato preferirà sempre difendere il pensionato piuttosto che il lavoro infatti diciamo questo questo fatto quel fenomeno sociale che ha messo fuori gioco quel sindacato presto metterà fuori gioco l'intera economia italiana perché l'economia italiana diventerà un'economia dominata dai pensionati con una capacità produttiva nulla e questo sarà un enorme problema che nessuno sa come risolvere e probabilmente non si risolverà non è una cosa risolvibile se non con profonde riorganizzazioni riallocazioni di debiti pubblico di debito pubblico tra lo Stato centrale e l'Unione Europea il che comporterà sicuramente una ulteriore riduzione perdita di sovranità da parte dello Stato ecco per quanto riguarda tornando al caso dell'articolo negli Stati Uniti quindi alla fine l'articolo dice che anche se anche se gli iscritti del sindacato sono diminuiti notevolmente c'è ancora una parte diciamo di iscritti al sindacato e per questi esiste ancora un premio salariale che è praticamente il reddito in più che questi hanno per il semplice fatto di essere iscritti in un sindacato però nella realtà questo premio consiste e si associa a delle ore in più che vengono lavorate quindi semplicemente diciamo questa iscrizione al sindacato consente ai lavoratori americani di avere un orientamento più produttivista di sfuggire alla sotto occupazione alla sotto produttività e quindi di andare ad aumentare il proprio reddito in questo senso è strano che anche altri lavoratori diciamo non applichino queste stesse regole però probabilmente è strano che magari pur sapendo che esiste un premio salariale sindacale altri lavoratori non cerchino di utilizzarlo però evidentemente c'è uno stigma sociale valoriale politico culturale così forte nei confronti di tutte quelle organizzazioni che possono in un qualche modo richiamare a forme di socialismo comunismo e socialdemocrazia che si preferisce pur rinunciare a una crescita del reddito marginale pur di conservare una propria aderenza ad un sistema di carattere capitalistico di carattere